Allora, altro importante successo per l'atletico Anzio Lavigno, in casa, a parte quel piccolo incidente di percorso all'inizio dei stagioni, però ci si conferma che questa squadra è in ottima salute. Sì, è vero, ci sentiamo in forma e lo dimostriamo anche nelle partite, è vero, peccato la prima, veramente, a quest'ora eravamo a un buon punto. Lo siamo anche adesso, nel senso che vincendo questa, sperando che la prima non ha vinto, eravamo a cinque punti e così accorciamo comunque le distanze. Allora, Totisco, un festeggiamento doppio, in virtù proprio del fatto del compleanno, un'importante vittoria proprio per rimarcare questa cosa, una felicità in più. Sì, è vero, ieri è stato il mio compleanno e era tanto tempo che non giocavo e il mister oggi ha deciso di farmi giocare e ho fatto vedere quello che riesco a fare in partita. Hai avuto anche ottime soluzioni, non è andata via. Purtroppo non sono entrate queste soluzioni, ho provato a passarle anche alle mie compagnie, però è come se fosse stata stregata quella porta, purtroppo. L'importante comunque era provarci e soprattutto convincere il mister di essere anche in un ottimo stato. Hai dimostrato che comunque su di me può contare, quando vuole, nel ruolo in cui mi crede meglio, insomma. Bene, comunque è giusto l'apporto di tutti, anche e soprattutto della panchina, perché è importante quando il mister chiama, farsi sentire pronte, lo fa capire anche una giovane e che si sta affacciando da poco a questo sport con l'Anzio Lavigno. L'importante è essere decisivi nel momento, non soltanto convincere il mister, ma convincere anche un po' tutto l'ambiente, quindi sapere di poter contare su tutte. Io posso essere disponibile per la squadra, io ci sono, sto qui per imparare uno sport che non ho mai fatto e piano piano imparo sempre ogni giorno di più. Quello che posso fare io lo farò con cuore, aiutando la squadra in tutti i corsi. Grazie a tutti.